7 e 10 minuti, good morning Milano, adesso tutto funziona, non male per questa giornata oggi, perché oggi è il 13 febbraio e cos'è il 13 febbraio? È la giornata mondiale della radio e noi abbiamo iniziato nel peggiore delle maniere che si poteva iniziare questo festeggiamento, questa giornata così importante per noi che facciamo radio, quindi auguri a tutti quelli che fanno radio, auguri a tutti quelli che ascoltano la radio. Martedì 13 febbraio 2024, giornata mondiale della radio, oggi sono i World Radio Day e questa è con Tony Milano e questa è Cristal Radio, quindi 3317853555. Ascoltateci, raccontateci cosa farete oggi e soprattutto oggi così, mi piacerebbe capire un po' il vostro amore per la radio, da dove nasce, come mai tutte le mattine avete voglia di accendere la radio, ascoltarci, farci entrare nella vostra routine quotidiana, come dico sempre grazie, grazie, grazie per far sì che questa mattinata noi le passiamo insieme, sono le ore più complicate magari della giornata, quelle un po' più anche intime e noi siamo lì con voi, quindi davvero grazie mille per rendere possibile tutto questo e grazie davvero per ogni mattina ascoltarci in tanti e in tanti davvero ci date il vostro supporto. Dicevo che oggi è il 13 febbraio ed è anche carnevale in realtà, anche a Milano, poi dopo noi lo festeggiamo sabato, poi dopo ne parliamo bene per capire perché sì, perché no e tutto, ma oggi è il martedì grasso, è il martedì grasso, tutti a New Orleans oggi per festeggiare il martedì grasso, no, è il martedì grasso, quindi è il momento clou dei festeggiamenti del carnevale nel rito romano, e quindi in tutto lo stivale, anche qui vicino, anche molti che ci ascoltano da molto molto vicino, parliamo di Bergamo, Monza, Pavia stessa, cioè quindi Pavia è un po' divisa metà perché poi alcune zone fanno l'ambrosiano, da una parte del naviglio, dall'altra fanno invece il romano, ma insomma l'odi, un po' sì, un po' no, insomma dipende un po' come rientrano in certe situazioni. Sta di fatto che appunto oggi in teoria è il martedì del carnevale, ricordiamo che invece noi a Milano lo facciamo più avanti, lo festeggiamo tecnicamente, lo festeggiamo sabato, in realtà poi noi festeggiamo la fine del carnevale, o meglio l'inizio poi della quaresima, perché? Vediamo se qualcuno di voi sa perché noi festeggiamo il carnevale qualche giorno dopo rispetto agli altri. 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, perché noi festeggiamo il carnevale dopo? Dopo scrivete, ce lo racconto dopo, me lo segno, anzi me lo scrivo qua, sentite come me lo scrivo bene, perché se no prendo appunti, se no poi mi dimentico di... ok, ecco, avete sentito, perfetto. Così dopo mi ricordo di chiedervelo. Intanto al 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, arriva un whatsapp da Alberto che dice Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, la radio è una compagna da quando ero bambino, si studiava con la radio di sottofondo, lo facevo anch'io, problema che poi non studiavo perché ascoltavo la radio, quindi è da lì che forse avrei dovuto capire che forse non era lo studio il mio futuro, ma forse la radio, beh ci sono arrivato finalmente, e anzi grazie a Cristall Radio come sempre per rendere possibile tutto questo. Poi, oggi abbiamo un po' di notizie da darvi, abbiamo poi un po' di ospiti che verranno a trovarci, ma abbiamo prima di tutto le indicazioni del traffico, eh sì, perché lo sapete, tutte le mattine, che sia il giorno della radio, che sia Natale, che sia Pasqua, qui a Milano bisogna sempre capire una cosa, ma che strada faccio per andare fuori di casa? Che strada faccio per andare al lavoro? Bene, allora per sapere che sta da fare, c'è Luce Verde che ci lo racconta, che ci dà la fotografia in diretta, in questo momento, in questo istante, di quello che succede sulle strade di Milano e di Città Metropolitana, e quindi vediamo, vediamo un po' che cosa ci dice Luce Verde. A voi la linea! H7 Rock'n'Roll, 7 e 17 minuti, Cristall Radio, buongiorno ancora a tutti e a tutti, perché siete qui ad ascoltarci il giorno di martedì, in alcune zone le scuole sono chiuse oggi, cosa che invece succederà a fine settimana, io non ho mai capito perché le scuole, le scuole che calendario seguono, perché ad esempio, ieri è successo questa cosa qua, spiegatemi perché, la piscina comunale qua dietro a casa è chiusa, è stata chiusa lunedì e martedì, ma non è il calendario ambrosiano, quindi perché lunedì e martedì sono rimaste chiusi per carnevale, nonostante il carnevale non sia adesso ma sia sabato? Non lo so, non l'ho capito. Comunque, abbiamo due filoni in questo momento che stiamo seguendo e sto facendo confusione con entrambi, da una parte il carnevale, dall'altra invece la giornata mondiale della radio e alla 3317853555 ci scrive Erika che dice buongiorno a tutti, perché amo la radio? Perché credo che sia uno dei primi ricordi che ho da bambina, mi ha accompagnata nelle tappe della vita e poi è uno svago passivo, perché puoi fare un sacco di cose mentre l'ascolti, è vero, è vero, questa cosa qui si può fare, poi adesso ci aggiungiamo anche il fatto che si può interagire così facilmente grazie a un whatsapp e poter essere letti in onda e confrontarsi con chi vi racconta le notizie, insomma è interessante secondo me poter raccontare un po' tutto questo da un microfono della radio oppure appunto ascoltandola da casa. invece vi ho fatto una domanda prima, non avete ancora risposto, non so se rispondervi prima che mi scrivete cose oppure non dirvi la risposta, no vabbè, ah no, è arrivato in realtà un whatsapp che diciamo che ci ha preso, nel senso perché ho chiesto come mai il nostro carnevale si festeggia più avanti rispetto a quello del rito romano, perché il rito ambrosiano è più avanti rispetto al rito romano, Alberto ha scritto proprio semplice perché Sant'Ambrogio il martedì grasso era fuori Milano e chiede di posticipare il carnevale ed è effettivamente così, quarto secolo più o meno, Ambrogio è via per un pellegrinaggio e non riesce a tornare a Milano per festeggiare il carnevale o meglio per dare l'inizio della quaresima perché tecnicamente per il rito romano domani inizia la quaresima. Non riesce a fare questa cosa qui e allora chiede di posticipare l'inizio della quaresima alla domenica che arriverà. Oltretutto andando a prendere poi, quindi non è che l'ha fatto così solo perché mi è venuto in mente, sono in ritardo, mi hanno annullato il calesse, non riesco ad arrivare, ricordiamoci che lui era tedesco, quindi magari era andato dai parenti, quindi non riusciva a tornare in tempo da Treviri, dove lui veniva e quindi dice no ragazzi c'è un problema sul Gottardo, c'è neve, non riesco ad arrivare, posticipiamo di qua. No, lui è fuori per un pellegrinaggio, non fa in tempo a tornare, quindi manda una missiva chiedendo di posticipare i festeggiamenti dell'inizio o meglio i festeggiamenti delle ricorrenze, non mi immagino che Sant'Ambrogio nasce in giro travestito a fare gli scherzi, ecco, non credo fosse successo a quello, posticipa l'inizio della quaresima, ma appellandosi in realtà ad un rito che esisteva già precedentemente il rito romano e che in Lombardia veniva già seguito già prima, che faceva iniziare effettivamente la quaresima la domenica della settimana del Carnevale. Qui perché c'era una piccola interpretazione da andare a leggere tra le righe dei dogmi della Chiesa Cattolica, che differenziava il digiuno dalla penitenza, ok? Da una parte c'era l'idea di digiuno, dall'altra quella di penitenza e quindi bisognava capire cos'era la differenza. Allora, un conto era la penitenza, quindi fare i 40 giorni di penitenza un conto era fare proprio il digiuno. Allora, all'epoca non si usava il digiuno completo, che poi tra parentesi, non so se mi ricorda qualcosa tipo Ramadan, cioè vedete come certe cose poi tornano nelle varie religioni. E allora, per un conto tutto strano che bisogna fare, c'è tutto un articolo, se cercate su Famiglia Cristiana ve lo spiega perfettamente, devo dire, è un articolo poi complicato perché bisogna fare proprio i conti del 40 giorni, la sesta settimana prima. Così è stato il fatto che in realtà c'era già un punto, questo rito a Milano dove, cioè c'era già questo rito prima del rito romano, dove si iniziavano i festeggiamenti, dove si iniziava la quaresma la domenica e non il mercoledì delle ceneri. Infatti, tant'è che noi il mercoledì delle ceneri tecnicamente non lo abbiamo all'interno del rito abbrosiano. Se non ci avete capito niente, tranquilli, perché anch'io ho fatto una fatica pazzesca, vi ripeto, Famiglia Cristiana, c'è un articolo che lo spiega benissimo, credo sia uno degli evergreen di Famiglia Cristiana, che vi spiega tutto quanto, cioè è sempre, non scade mai questo articolo, potete leggerlo quando volete, tanto è buono per tutti gli anni, ok? E vi spiega anche perché appunto Sant'Ambrogio non era a Milano e quindi ha chiesto di posticipare i festeggiamenti Sant'Ambrogio, che come dicevo arrivava dalla Germania, ma che sicuramente diceva ragazzi Milano è casa mia. E sapete anche chi dice che Milano è casa sua e non solo Milano è casa sua? Il carissimo Gali. Gali from Baggio, Gali from casa mia. Emma con apnea, ancora da Sanremo ovviamente, questa è la settimana in cui ascolteremo tutte le canzoni, saremo più volte e poi dalla settimana prossima ce le saremo già dimenticate. No, non è vero. Qualcosa secondo me rimarrà e sappiamo benissimo che Annalisa ce la portiamo avanti almeno, almeno, passata a ferragosto sicuro, cioè fino ad agosto lo passa quella di Annalisa. Vediamo se arriva anche fino a ottobre come quella di The Colors, Italo Disco è creata fino a Natale, cioè l'anno scorso si è fatta tutto l'anno praticamente, però vabbè è uscita più a ridosso dell'estate, non è uscita già a febbraio, però insomma, vediamo. Cosa ci siamo portati l'anno scorso di Sanremo fino a fine anno? Niente, no, niente, non c'era nulla. Adesso così su due piedi non mi viene in mente niente. Voi cosa vi siete portati fino a fine anno dello scorso anno? Cioè le canzoni di Sanremo che vi siete portati fino a fine anno 2023, 2023, cosa vi siete portati? 331-78-53-555. Oggi è carnevale, è il giornata mondiale della radio, ma è anche il giorno prima di San Valentino. Domani, domani è San Valentino e quindi domani cosa fate? Uscite a cena, state a casa, cenetta. Allora quella della cenetta a casa particolare, cioè nel senso un po' diversa dal solito, non la solita pizza da sport o il solito pochè, ho sentito che molti lo fanno. Cioè in primis c'è il sushi, poi ci sono altri tipi di cibi esotici che vi potete far arrivare a casa o andate a prenderli e andate a casa, oppure comunque molti complimenti, hanno l'idea della cenetta, cioè faccio la cenetta, preparo qualcosa di buono per mia fidanzata o mia fidanzata, così, quindi interessante. Non si va più fuori. È vero che veramente uscire la sera di San Valentino è diventata ormai una spesa pazzesca. Cioè il picco dei ristoranti, poi devi prenotare il San Valentino l'anno prima, non è che mangi, cioè nel senso, e poi un po' c'è, secondo me, questo sentore di sentirsi un po' sfigati. Cioè non so perché, mi dà quest'idea che se ho avuto la genzetta magari dicano, ma ma che cosa vuoi fare? Andare per forza a fare? Allora o vado a fare una serata, cose così, oppure me ne sto a casa senza troppi sbattimenti facendo una cenetta appunto con la propria compagna, con il proprio compagno. Tutto questo vuol dire appunto che domani è San Valentino, quindi se ci avete voglia di raccontarci che cosa avete in mente, cosa avete in mente domani per San Valentino, 331-78-53-555. Andiamo invece adesso a leggere una notizia da Corriere della Sera a Milano, perché abbiamo parlato di viabilità prima insieme a Luce Verde e invece adesso arriva la notizia che a Milano parte la Metrotran Via Nord. Ah bene, la posso prendere? No, partono i lavori e neanche tutti, quindi state tranquilli. Al via, i lavori per la linea 7, fondi del PNRR per le tratte Adriano Gobba e test di guarda. Ma cos'è questa Metrotran Via Nord? Sarà un tram, fondamentalmente, in sede protetta quasi tutta, che va da Cascina Gobba fino a Certosa, ok? In questo momento non dovrebbero esserci grossi problemi nel senso che stanno facendo i lavori, quindi se prima o poi ce la vediamo la luce per il tratto Cascina Gobba Prato Centenaro, ok? Che dovrebbe poi vedere anche insomma, l'arrivo sulla linea Lilla che praticamente è in zona Bicocca, per intenderci lì, ok? Fate conto che passerebbe da Cascina Gobba, poi da Precotto, poi da Greco, poi appunto arriva lì in zona Bicocca, dall'Italia e va verso Niguarda, quindi arriva anche ad Affori Centro, fermata la metro Affori Centro, poi va leggermente giù, arriva in Bovisa, stazione del terreno Bovisa, per poi saltare dall'altra parte della ferrovia e arrivare fino in Certosa. questo è la linea Trenvia 7. Marco Bengoni, mi fiderò insieme a Madame qui su Cristian Radio, qui a Good Morning Milano. Milano che ormai è una città che non ha niente da invidiare ai migliori film di fantascienza, così sembrerebbe leggendo le notizie che arrivano dalla Repubblica, perché eh sì, siamo arrivati anche a Minority Report, ve lo ricordate quel film con Tom Cruise dove ti arrivavano ad arrestarti ancora prima che tu avessi fatto qualche crimine, no? C'era un cervellone che capiva tutto, aveva capito le tue intenzioni e trac, ti fregavano lì. Sembra questa la storia di Extinction Rebellion. Cosa è successo? Allora, ieri in protesta in Consiglio Comunale di Extinction Rebellion con cartelli con scritto ci hanno multati per striscioni che non siamo neanche riusciti ad appendere. Ebbene sì, perché gli attivisti sono arrivati otto multe per un totale di 2400 euro per il tentato blitz del 7 febbraio in cui hanno provato ad appendere due striscioni contro le Olimpiadi. Cioè non hanno manco appeso queste striscioni e gli hanno comunque dato una multa. Non male, diciamo, Tant'è che infatti anche alcuni consiglieri tra cui ad esempio Francesca Cucchiara che dice sono stati multati per uno striscione che non sono riusciti a disporre. Penso che ci sia un accanimento nei confronti dei giovani che si mobilitano per il clima. La loro è una battaglia che merita ascolto e vengono considerati come invece ecoterroristi una cosa raccapricciante. Così dice appunto la consigliera dei Verdi Cucchiara anche loro dicono chiediamo chiediamo meno inquinamento chiediamo un mondo più pulito e invece veniamo multati. Insomma è una storia bruttina devo dire la verità nel senso che un conto anche qui cerchiamo di fare di differenziare le cose un conto è il vandalismo un conto è rompere qualcosa un conto è anche imbrattare con la vernice lavabile. Va bene posso concepire che lì una multa te la pigli anche se è lavabile tutto ci può stare un altro è non poter neanche appendere due striscioni o comunque cercare di farlo e pigliarsi una multa cioè siamo arrivati veramente a degli assurdi ovviamente si chiama repressione questa roba poi capisco che c'è la legge che dice quello che volete però non si può fare una cosa del genere questi ragazzi da qualche parte dovranno trovare uno spazio per esprimersi oppure vogliamo che siano solo esclusivamente sui social che facciano solo i loro bei post i loro bei tiktok e così però non lamentiamoci se sono solo in quel mondo lì e non solo nel mondo reale perché appena mettono piede nel mondo reale queste sono le conseguenze se vuoi stai qui ma stai zitto se no te ne vai via questo sembra il messaggio che viene mandato a dei ragazzi che hanno protestato che protestano ripeto non solo per se stessi ma anche per noi perché è lo stesso mondo che loro vedono cadere a pezzi che loro vogliono difendere e a cui quel mondo di cui scusate di cui denunciano le storture le bizzarrie che ci sono in questo mondo beh è lo stesso mondo che viviamo anche noi e quindi there's not a planet B dicono non c'è un pianeta B ed è così non c'è un pianeta non c'è un piano B se noi mandiamo a quel paese questo pianeta noi mandiamo a quel paese noi stessi loro lo dicono con alta voce lo dicono a volte con metodi e modi che magari non sono del tutto canonici e difficili anche a volte da concepire da una parte e anche da supportare dall'altra però sinceramente davvero questa cosa delle multe è brutta è brutta 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 e non ce l'ho con i vigili o con chi li ha mandato le multe se loro hanno fatto il loro mestiere tu non puoi tu lo sappiamo è venuto con anche il sindacato se tu sei un vigile vedi una cosa che non va bene non puoi sarebbe omissione quindi non puoi non fare il tuo mestiere mi sembra che però la politica debba ascoltare questi ragazzi ha il dovere morale di ascoltare questa protesta perché è una protesta ripeto per tutti quanti e non solo per loro tuta gold Mahmood no non è gold la tuta della Brera Calcio ma adesso parliamo del Brera Calcio si nero e verde i colori come credo il Venezia se non ricordo male comunque non importa questo questo non ha importanza chi è cosa è il Brera Calcio il nome lo dice stesso è una squadra di calcio basata in quel di Brera più o meno nel senso che è una squadra milanese si definisce la terza squadra di Milano ma soprattutto è una squadra che è stata esportata nel mondo attualmente mi sembra tre campionati tre campionati nel mondo hanno al suo interno il Brera il Brera Calcio ma ricordiamo come nasce nel 2000 nasce il Brera il Brera Football Club riapertura dell'arena civica gioco in arena civica campionati ovviamente di minor serie rispetto alla serie milanese cioè squadra serie italiana quindi non con Milano e Inter ma campionati più sotto pensate che quando inizia la allena Walter Zenga Zenga allena il Brera Calcio passano gli anni diciamo che non è che diventa la terza squadra di Milano perché non riesce ad arrivare in serie A o meglio rimane la terza squadra ma non riesce a salire di campionato e allora il colpo di genio creare una holding che esporti il marchio del Brera Calcio nel mondo e iscrivere delle varie squadre Brera Calcio nei vari campionati del mondo e finalmente è arrivata in serie A dove nel campionato della Mongolia il 2 marzo inizierà il campionato della Mongolia la serie A della Mongolia e tra i nomi delle squadre c'è il Brera Ilce che è il Brera Football Club e sì terza squadra di Milano con proprio quel nome lì con gli stessi colori verde e nero Brera giocherà il Brera giocherà nel campionato Mongolo e beh l'allenatore ha detto sì mi devo trasferire a Ulambator Ulambator capitale del Mongolia meno 30 gradi più o meno quando inizierà il campionato o meglio adesso poi speriamo che per marzo faccia un po' meno freddo tra l'altro è strano che iniziano così presto un campionato in un paese ma penso che dopo ci siano anche le piogge quindi insomma il campionato il momento in cui giocare deve essere molto molto stretto sta di fatto che il Brera finalmente ce l'ha fatta terza squadra di Milano con finalmente una squadra in un campionato di Serie A il campionato di Serie A della Mongolia ma attenzione perché appunto non è l'unica squadra iscritta dei campionati esteri nel senso che appunto ci sono anche altri tre campionati a cui è scritto e vedremo appunto man mano che inizieranno come e che cosa succederà nel Brera Calcio se riuscirà finalmente ad arrivare anch'esso in qualche altro campionato di Serie A chissà magari campionato della Papa Nuova Guinea vedrà il Brera Calcio oppure dove volete vederlo nel campionato del Malawi va bene mettiamolo lì chissà che non ce la faccia ma è interessante vedremo come sempre come queste interessanti intuizioni di Alessandro Leotti che appunto diciamo è colui che ha fondato il Brera Calcio uno dei dirigenti appunto maggiori importanti della società che insomma è lui che ha sponsorizzato molto questa idea e che finalmente è riuscito a portarla in porto e quindi tanti auguri al Brera Calcio che il 2 marzo a Ulaanbaatar inizierà il suo campionato di Serie A per la prima volta il Brera Calcio in Serie A nel campionato della Mongolia ma comunque sempre Serie A è Dargen D'Amico onda alta Dargen la quota milanese di questo festival insieme a Mahmud che mi ha sentito prima a Gale che mi ha sentito prima insomma sono parte integrante di questa città e siamo ben contenti io poi continuo a dire che anche Big Mama la sento milanese in quanto è qua che mette le sue radici no radici no diciamo appendici musicali mette le radici della sua della sua terra ma qui comunque ha sviluppato tutto quello che è il suo fare musica quindi insomma io sono molto molto soddisfatto dalla compagine milanese di questo di questo festival Rose Villain ad esempio che continuiamo a ricordarci nata qua poi nata dove è andata ma tornata qua per fare la grande musica e poi e quindi non posso non dirlo ricordiamo sempre che la grande musica passa da Cristiano no devo dire che la grande musica si fa a Milano c'è poco da fare tutte le grandi major sono qua tutti i grandi produttori sono qua se tu vuoi fare grande musica ormai ma da anni in realtà anche i grandi della musica di una volta venivano comunque a Milano quando c'erano ricordi le messaggerie non si veniva a Milano le grandi ricordi era qua cioè la voce del padrone quelle robe lì erano qui che si venivano a produrre i dischi e ancora adesso qui si producono ho parlato di grande musica beh ce ne sono due che sono andati al festival quest'anno hanno portato una canzone che all'inizio ha lasciato un po' tutti così un po' esterefatti un po' perplessi ma che poi abbiamo capito subito essere l'ennesima hit di un gruppo che da anni 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 sforna hit sto parlando dei ricchi e poveri con ma non tutta la vita Renato Zero i migliori anni della nostra vita il Crystal History delle ore 8 come sempre una canzone dal nostro passato una canzone che ci ricorda le emozioni soprattutto che abbiamo vissuto con la musica la grande musica che passa qui su Crystal Radio allora leggiamo da Corriere Milano una notizia che poi ci dà il passaggio dall'Assist per parlare di un altro tema la crisi del commercio in Lombardia perso il 13% di attività dal 2012 più serrande abbassate pensate nei centri storici rispetto a fuori che i centri storici il vicepresidente vicario di Conf Commercio Lombardia dichiara che la chiusura di un'attività rappresenta non solo una forte criticità per gli imprenditori e per i loro collaboratori ma un impoverimento del tessuto urbano sociale lo sappiamo ogni volta che vediamo una serranda abbassata è un po' di disagio un po' di povertà sociale proprio non solo economica che si avvicina che va a intaccare la nostra città città che però ha dei numeri pazzeschi e con cui vorrei parlarne con Viola che c'era giunto qui buongiorno Viola buongiorno ciao a tutti allora Viola tu hai preso spunto alla notizia che hai trovato su un giornale qualche settimana fa adesso ci dici quale ha a che fare un po' con questo nel senso che parliamo di ristorazione giusto? esattamente che cosa hai trovato? allora io ho trovato dei dati sulla città di New York quindi città metropolitana gigantesca che faceva il calcolo di quanti ristoranti sono aperti nella città metropolitana di New York e quanto tempo ci vuole per provare ogni singolo ristorante a pranzo e a cena ah cioè se io vado in tutti i ristoranti di New York pranzo e cena quante anni ci vogliono per farli tutti? 32 anni per 24.000 ristoranti 32 anni per mangiare pranzo e cena anche vabbè voglio sapere che stipendio dovete avere per potervelo permettere ma soprattutto ci vado 32 anni a coprire tutti i ristoranti di New York a pranzo e a cena sì devo sperare che qualcuno chiuda nel frattempo eh sì no per forza perché 32 anni e quindi poi mi sono chiesta a Milano invece la nostra città quanto tempo ci vuole per 8.000 servizi di ristorazione andando fuori a pranzo e a cena ci vorrebbero 11 anni quindi comunque è un bel posto non male 11 anni servizi di ristorazione quindi c'è ristoranti fast food self service tutto c'è dentro esatto poi ovviamente questi dati sono da prendere un po' cioè con le pinze perché come hai detto te ultimamente però tipo ad esempio invece con l'apertura del Merlata Bloom si sono aperti tantissimi nuovi eh sì erano solo lì abbiamo visto che io erano 30 mi sono stato del genere di botto adesso mi sfugge però tanti una trentina così de botto mi vorrebbe dire senza senso ecco appunto comunque è interessante di questi quanti hai detto 8.000 sono a Milano 8.000 sì quanti hai già provati 8.000 tutti 8.000 da 11 anni che mangio fuori a pranzo e 11 anni allora diamo una notizia la famiglia di Viola tranquilli sta bene è solo in giro a provare ristoranti esatto se non mi vedono a casa è per questo è per quello ti faccio una domanda difficile invece adesso domani è San Valentino no no preferisco non rispondere ti avviare la volontà di non rispondere esatto vogliamo fare un appello al 331 178 53 555 eh volentieri per favore se qualcuno ha voglia di passare San Valentino con me lo dico un po' piangendo infatti allora possiamo mettere cocciante dopo abbiamo qualcosa di molto triste da mettere ufficio programmazione sono simpatica sì quello è vero quello è vero è molto molto simpatica quindi se volete farvi una bella risata sicuramente non sbagliate a uscire una sera con Viola ti piace questo endorsement lanciato così grazie grazie mille dopodiché ragazzi mi sa anche dire quanti anni ci vogliono per mangiare tutti i ristoranti di Milano e consigliarli perché li ho provati tutti provati tutti va bene Viola tornerai presto qui con noi te lo dico perfetto Calcutta due minuti e tanti applausi non solo per Calcutta ma anche per Viola che è stata qui con noi per raccontarci questa cosa adesso io poi la porto di nuovo perché è impazzito il centralino Viola ci sono proposte di San Valentini ovunque tu voglia dal fast food al baracchino sul naviglio all'asporto quindi guarda c'è tutto mi spiace gli 8.000 ristoranti di cui però hai parlato mi sa che non ne erano contemplati comunque se volete risentire ascoltare tutte le nostre rubriche all'interno di Good Morning Milano c'è il nostro sito ok c'è anche il nostro podcast ci trovate sia su Spotify che su Apple Music basta scrivere Good Morning Milano è semplice buongiorno Milano vuol dire non so magari qualcuno si chiedeva cosa dovesse dire ecco comunque ci trovate ovunque 331-78-53-555 il numero di Whatsapp grazie a Marco che ci ha scritto dicendo guarda sono impegnato se no ci pensavo io a portare fuori Viola per San Valentino ecco vedi quindi c'era Marco che era disponibile Viola mi spiace invece però è impegnato lavora alla sera di San Valentino vabbè buono buono è un bravo lavoratore quindi insomma può essere un buon un buon partito per Viola a Milano mi collego a Viola che Viola è una delle nostre studentesse che vengono qui a Good Morning Milano a fare anche il loro tirocinio curriculare per l'Università di Milano in questo caso credo statale se non sbaglio giusto che l'Università Statale mi dice di si Viola oltre a essere una bravissima producer essere una bravissima anche speaker abbiamo scoperto questa mattina proprio proprio alla Statale di Milano è nato il Museo della Filosofia fino al 22 febbraio ci sarà questo museo all'interno appunto delle salette vicino all'Aula Magna di Festa del Perdono ma la cosa interessante è che è una mostra per smascherare così dice il Corriere Milano le fake news giochi interattivi e trappole ecco come si allena il pensiero critico complottismo fake news e altre trappole mentali organizzata appunto dal Museo della Filosofia dell'Università Statale è allestita questa mostra vicino alla delle salette proprio vicino in Festa del Perdono attraverso giochi interattivi e con un finto social network si analizzano i meccanismi della mente che i bias cognitivi fino ad arrivare a cercare di smontare o capire quali sono i cardini che ci sono la base del pensiero complottista il professor Ichino dice appunto che crediamo molto nell'allenamento al pensiero critico attraverso pratiche ludiche e interattive quindi bisogna hanno creato una sorta di gioco didattico che offre una sorta di vaccino cognitivo così lo dice in modo che inocula una piccola dose innocua ma realistica di disinformazione per renderci più capaci di riconoscerle e contestarle in futuro nel senso che se noi capiamo qual è la disinformazione qual è la fake news ci viene instillata dentro nella mente quella è una fake news forse anzi così dicono i ricercatori riusciremmo in futuro a riconoscerle meglio e poi con il certo punto del vaccino ti metto il virus innocuo nel tuo organismo per far sì che il tuo organismo faccia gli anticorpi se noi ci mettiamo le fake news sapendo che sono fake news nel nostro organismo il nostro organismo la nostra mente soprattutto farà di conseguenza tutti i vari anticorpi alle fake news e quindi fino al vi ricordo fino al 22 di febbraio Università Statale di Milano Festa del Perdono Museo della Filosofia molto molto interessante fossi in voi ce lo farei un saltino click boom boom Rose Villain 8 e 22 minuti Cristal Radio Good Money Milano sono stanco a morire ve lo dico la verità voglio essere sincero con i miei ascoltatori Sanremo lo sento ancora tutto nelle ossa nelle viscere ma io voglio raccontarvi quello che succede a Milano e quindi voglio stare qui fino alle 9 anche oggi per raccontarvi tutto quello che succede a Milano nella grande città metropolitana e tutto quello che rende grande nella nostra città non se non avete capito niente è normale andate a 05 il nostro podcast che non c'è problema perché lo trovate sia su Spotify che su Apple Music ecco questo era per dirvi che cosa dirvi che adesso c'è una piccolissima pausa qualche consiglio per gli acquisti e poi torniamo qui per l'ultima mezz'ora insieme 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 e come sempre c'è da dire una cosa l'ufficio programmazione si sta si è superato come sempre perché Sanremo quindi ovviamente volente o nolente canzone di Liga 2 ma non è in questo caso quello volente o nolente dobbiamo ascoltarci le canzoni di Sanremo ma poi ma poi arrivano i Rem ad esempio così alle 8.23 ti arriva una Losing My Religion e la giornata ti svolta c'è poco da fare Here I am Losing My Religion Crystal Radio Good Morning Milano Analisa sinceramente 8 e 32 minuti anzi 33 in questo istante ben ritornati di nuovo qui con Good Morning Milano sempre sulle frequenze di Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus App iOS Android e anche il sito internet vi ricordo sempre che il sito internet è comodissimo perché voi arrivate al lavoro vi sedete vi prendete la vostra tazza di caffè e la mettete di fianco poi dite si si capo sto lavorando metto le cuffie perché c'ho una call ma l'ascolto e basta e invece vi ascoltate Crystal Radio cioè accendete Crystal Radio iconizzate il sito e voi vi ascoltate Crystal Radio tutta la mattina perché ricordatevi che dopo di noi c'è anche Ambrogio Curti con le grandi storie della musica nazionale internazionale la sua voce le sue conoscenze che vi racconta il perché è il per come delle canzoni che hanno fatto la storia della musica io non vi ho detto niente basta comunque allora da Corriere Milano prendiamo un articolo interessante che arriva da una lettera che hanno scritto al sapete la lettera Schiavi no? lettera Schiavi è una rubrica del Corriere della Sera che appunto i cittadini scrivono a questo grande giornalista di Milano per raccontare un po' quello che succede si ritorna sul tema perché è arrivata una lettera da un vigile deluso così si fa chiamare l'autore di questa lettera che è molto deluso perché dice non torneremo più nel cuore dei cittadini perché siamo visti come lo sceriffo di Nottingham questo è un tema che spesso lo direi anch'io ho tirato fuori perché e ce lo so ad esempio con le divise io sono molto visivo no? l'immagine è tutto no? per vedere come la penso e vestire i vigili urbani la polizia municipale come fossero dei Rambo non fa nient'altro che allontanare quella tipo di istituzione dal cittadino quando invece quell'istituzione dovrebbe essere al fianco del cittadino sempre e non deve essere vista appunto come dice il vigile deluso lo sceriffo di Nottingham oltretutto abbiamo avuto qua il sindacato anche della polizia locale che ci diceva che comunque lavorano in situazioni veramente assurde nella lettera il vigile deluso a un certo punto dice lei ha conoscenza che alcuni colleghi neoassunti hanno dovuto acquistare la divisa di tasca propria proprio perché non fornita capite che è un problema poi sicuramente ci saranno dei motivi le motivazioni magari hanno in ritardo oppure sentivamo che alcune volte viene data una divisa una divisa sola per una persona che deve tenerla su 5 giorni a settimana tutti i giorni come fa? e quindi capite che magari la seconda la vado ad acquistare quindi non è così così semplice e in più viene fatto questo effetto di conseguenza arriva questo effetto per cui i cittadini vedono il vigile lontano da sé lontano dalle proprie stanze e come appunto lo sceriffo di Nottingham che ricordate rubava il soldino nel cartone animato della Disney rubava il soldino al coniglietto che l'aveva raccolto per il suo compleanno è un problema molto grosso io sono cresciuto in una generazione che invece vedeva il vigile come un amico anzi mi ricordo l'operazione che c'era vigile amico si chiamava era una cosa così venivano alle scuole raccontavano andavi al comando dei vigili non era solo ti faccio la multa se fai qualcosa ti dico no era un colloquio era un inizio di relazione era come intessere una relazione che poi sarebbe dovuta durare negli anni anche da grande quando magari passavo dall'essere il bambino che ero a quello che andava in giro il motorino e poi in auto e poi a vivere la città è un tema molto interessante leggete la lettera che c'è sul Corriere della Sera Milano il vigile deluso non torneremo più nel cuore dei cittadini siamo visti come lo sceriffo di Nottingham Negramaro ricominciamo tutto sempre da Saremo 20-24 mi sta sulle balle di 20-24 2024 non lo so perché si usa adesso sta roba del 20-24 20-23 2024 è un numero non è che difficile vabbè comunque allora don't panic perché poi so che iniziate a scrivere cose sui social ecco hanno tirato vi no non so allora fermi tutti vi dico bene cosa succede allora toglieranno per un mese la vedovella di Piazza della Scala la fontanella la tolgono per un mese fermi fermi non cominciate a dire che addio ecco adesso metteranno le robe digitali il touch i social non ce lo vogliono dire il complotto no la devono restaurare semplicemente è una delle più antiche anzi la più antica di Milano è in bronzo ha 90 anni di servizio nessuno di voi ne ha 90 di servizio quindi vorrei vedere se non vi togliamo di mezzo a voi perché non avete 90 anni di servizio quindi non incominciate a scrivere cose sui social che poi mi arrabbio la tolgono la vanno a sistemare la risistemano gli fanno un bel collaudo idraulico e la rimettono lì dov'è ok quindi per un mesetto circa la fontanella di Piazza della Scala la Vedovella vi ricordate perché si chiama Vedovella vediamo se vi ricordate dopo ve lo chiedo 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 perché si chiamano Vedovelle perché si chiamano Vedovelle o anche Drago Verde perché comunque questa è in bronzo pensate è una delle 640 Vedovelle che ci sono in giro per la città venne realizzata tra il 1914 e il 1912 19 scusate su disegno dell'architetto Luca Beltrami autore del restauro anche ottocentesco del castello sforzesco ok va bene mi piace pensate che fu Beltrami fu pagato dal comune incaricato dal comune per fare tutti gli ornamenti in ghisa e in ferro per la piazza della Scala dove appunto poi in quegli anni prese anche posizione il comune in Palazzo Marino perché non è sempre stato lì però poi fin d'ottocento appunto arriva in Palazzo Marino il comune di Milano proprio di fronte a uno dei teatri più famosi al mondo forse mi viene da dire il teatro più famoso al mondo sicuramente in quegli anni lo era adesso ahimè non so se lo ancora ricordiamo primo anche quella è una piazza che ha dei privati perché quel teatro lì il teatro della Scala è il primo teatro al mondo elettrificato cioè con la corrente elettrica sì proprio direttamente c'era una centrale elettrica in via Santa Resegonda come si chiama lì dove c'è l'Odeon dove c'era l'Odeon non c'è neanche più quello adesso comunque e un bel filo che tirava da là portava la corrente fino alla Scala e accese tutto il teatro il giorno della prima appunto della Scala quindi insomma un primato importantissimo per Piazza della Scala che adesso vedrà per un mese tolta la Fontanella che come dicevo sono operati i 90 anni di servizio ma poi tornerà quindi mi raccomando non incominciate a scrivere ovunque che ecco Milano non è più qua di una volta si stava meglio con la strada peggio l'acqua di Milano torna tranquilli non vi preoccupate che tutto torna tutto torna e oggi la giornata di Rosbillain ben due volte l'abbiamo messa non si dovrebbe mai fare una cosa del genere ma ci piace così tanto siamo così contenti del suo ritorno alla nostra città che insomma anche cartoni animati qui alle 8 e 47 minuti Crystal Radio vedovelle avete indovinato bravi 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 avete indovinato in 3 o 4 che bravi dai sei stati bravi a scrivere guarda qui tutti avete indovinato praticamente tutti quelli che ci stanno scrivendo in questo momento si chiama vedovelle perché quel scendere di acqua non così scrosciante ma quasi goccia goccia come direbbe anche l'agenda nazionale goccia goccia no ricorda un po' il pianto delle vedove allora in questo nostro modo così sempre molto simpatico di vedere le cose noi milanesi no abbiamo voluto chiamare la vedovelle oppure drago verde perché quasi tutte hanno anzi tutte hanno il drago che butta fuori l'acqua tranne quelle di city life che sono fatte particolarmente diverse basta perché è così per dare un tocco di arte in quella di city life e sono le uniche le uniche che non hanno il drago come rubinetto diciamo come fuoriuscita dell'acqua ci siamo chiesti cosa facevate cosa faceste vaste vaste cosa fareste ok ce l'abbiamo fatta ci siamo chiesti cosa fareste domani sera no è il San Valentino e dove andrete cosa farete cosa di quello che possiamo dirvi è che sicuramente domani il meteo comincia a migliorare già oggi in realtà non è male però da incomincia a salire le temperature e infatti l'osservatorio meteo di Milano Duomo dice le temperature in questi giorni sono quelle generalmente registrate nella seconda metà di marzo pensate siamo avanti praticamente di un mese e infatti una giornata di San Valentino all'insegna della primavera a Milano con sole e bel tempo per celebrare la giornata innamorati questa poesia di Repubblica Milano comunque quindi a Milano e San Valentino saranno anticipo di primavera ma tornerà la nebbia quindi attenzione che temperature alte durante la giornata ma attenzione alla nebbia soprattutto nelle ore serali il 13 e il 14 febbraio quindi oggi e domani temperature rialzo sopra ai 15 gradi domani si potrebbero raggiungere anche i 17 gradi poi capiamo la percepita quale sarebbe ma insomma sicuramente molto molto caldo bellissimo dal punto di vista di andiamo fuori facciamo una passeggiata e tutto angoscia devo dire se pensiamo che appunto siamo alle temperature che di solito dovremmo registrare fra un mese quindi in anticipo di un mese vuol dire in anticipo di un mese sulla siccità estiva vuol dire in anticipo di un mese sulle colture dei nostri campi agricoli vuol dire che ripeto come l'ennesima volta che qualcosa sta andando storto ma non sono io a dirlo perché io potrei inventarmi qualsiasi cosa è la scienza che lo dice anzi è da 50 anni che ciò dice la scienza ma non li abbiamo mai ascoltati quando adesso lo dicono anche i ragazzi e abbiamo visto prima la notizia di Extinction Rebellion invece gli facciamo le multe perché mettono i cartelloni dove non andrebbero messi quindi insomma il tema è importante e forse la politica dovrebbe ascoltare un po' di più dovrebbe veramente porsi delle domande e trovare perché è quello il lavoro della politica trovare anche le risposte adatte se no qua non ne usciamo vivi nel vero senso della parola e poi avete voglia di dire eh ma i giovani d'oggi hanno l'ansia eh ma i giovani d'oggi sono critici eh ma i giornali sono tutti depressi vorrei vedere voi vorrei vedere voi a crescere in un mondo che non sa se fra vent'anni ci sarà ancora quindi insomma cerchiamo di capire davvero da cosa nascono certe ansie da cosa nascono certe paure 8 e 54 minuti martedì 13 febbraio buon carnevale a tutti quelli che lo festeggiano col rito romano e noi invece aspettiamo questo sabato per festeggiarlo e anche auguri a chi si sta preparando per il San Valentino di domani e soprattutto auguri per chi doveva trovare un posto dove portare fuori la propria fidanzata a mangiare perché insomma non è così facile lo sappiamo cioè fidanzata fidanzato uguale non è facile per nessuno che poi si usa ancora il termine fidanzato fidanzata oppure nella mia epoca accompagno compagna adesso cosa si usa il filarino il moroso l'amorosa amoroso no quella canta dopo di noi ambrogio curticon senti questa 905 più o meno c'è il giornale radio e poi c'è ambrogio che vi racconta tutto quello che volete sapere sulla grande musica nazionale ed internazionale e anche questo martedì ce lo siamo levati di mezzo e quindi possiamo andare tranquillamente avanti con la nostra giornata in realtà sta iniziando adesso il martedì so che per me finisce qui la trasmissione ma per voi inizia la giornata giornata che spero sia delle migliori e domani potete raccontarmelo se volete perché sono qua alle 7 dalle 7 alle 9 ancora con Good Morning Milano perché finché mi volete io sono qua a raccontarvi Milano la città metropolitana è tutto quello che rende grande la nostra città grazie mille ciao domani ciao 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 Grazie a tutti.